Musica Quanto conta Luca essere artigiani in questo lavoro? Tutto, è l'unica maniera per far bene questo mestiere tutta la vita Allora innanzitutto un giudizio su questo festival del cinema, come sta andando oggi a Perla? Bene, bene, sta andando bene, i biglietti sono cresciuti, per cui siamo in una fase, credo, positiva, propositiva È un cambiamento, il 21% in più di biglietti vuol dire che la gente apprezza la nuova linea editoriale C'era Al Pacino, come l'hai vista? Sono andato a dare il benvenuto, siamo rivisti dopo tanti anni, eravamo all'Actor Studio tanti anni fa insieme Ma che, com'è lui, che ricordo hai? Bello, è una persona appassionata che crede in questo mestiere, è un artigiano uno che crede in quello che fa Per chi ha studiato con Strasberg c'è un credo profondo di fare questo mestiere con grande serietà Senti, ci sono state anche delle proteste, sul red carpet c'era polizia, gente che protestava C'erano dieci ragazzi che si lamentavano che hanno chiuso l'Horus Mi piace Grazie Dunque, cosa è cambiato nel cinema italiano negli ultimi vent'anni? È andato in peggio, speriamo migliore Manca l'industria, bisogna lavorare sull'industria Grazie, buona serata Dio, non stop dancin' Dio, non stop dancin' Dio, non stop dancin' Keep that move